BMW 320d Coupé, motore benzina da 170 CV con trazione posteriore, il vero Coupé è benzina, il gasolio è un carburante che va bene solo per i cagli nei trattori, ripeto, la vera macchina sportiva, il vero Coupé è solo benzina. BMW 320d Coupé, motore diesel da 184 CV, oltre 25 km con un litro di gasolio, con 10 euro percorrerete oltre 200 km, mantenendo comunque prestazioni da vera macchina sportiva, 184 CV, ripeto, 184 CV, lasciate in benzina chi calcola una misa a fare. Che la pensiate in una maniera oppure in un'altra non ha importanza, venite a trovarci l'autobaselli, sapremo soddisfare comunque le vostre esigenze, perché l'autovettura abbiamo sia benzina che diesel. Alla prossima!